Beppe Rocca, presidente di Artob, lo incontriamo per sapere come sta andando la ristorazione nella provincia di Brescia e quali sono le novità messe in campo da questa importante associazione. Diciamo che l'Artob nell'ultimo periodo si sta dando molto da fare, iniziative come l'accreditamento con la regione Lombardia per fare dei corsi a 360 gradi, è iscritto ISO 9001, oggi come oggi ha fatto dei gemellaggi con SEAT, Pagine Gialle, dando un buon risalto a tutti i soci Artob con 150.000 guide in tutta la popolazione di Brescia provincia, Brescia provincia fa 1.200.000, però 150.000 guide fanno la loro parte. oggi la ristorazione nel campo ha avuto un po' di trambusto così, però si sta riqualificando molto bene con professione, con qualità, con certi atteggiamenti, diciamo che la gente esce meno, però sceglie più accuratamente la ristorazione, il ristorante, la professione, il piatto. oggi è partita tutta la sagra dei volenti uccelli, dove tanti associati sono partiti alla grande e stanno lavorando molto, ma molto bene, perché ho fatto una prova qualche sera fa e per andare a mangiare ho passato quattro locali e non ho trovato posto, vuol dire che la gente esce, quando c'è un argomento, quando c'è un piatto, quando c'è qualcosa che attiri qualche novità, ci vuole un po' di stimoli, credere per combattere la crisi. Grazie per la visione!